pilota fai attenzione puoi dirlo forte pilota fai attenzione pilota fai attenzione pinnata fai att K Grazie a tutti. 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 I liquami contengono molti metalli pesanti che interferiscono con i miei sistemi di puntamento. È così difficile, spara! Sparare alla cieca verso il mio pilota violerebbe il protocollo 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sparare alla cieca. 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 Impulso sonar online. Sparare alla cieca. 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 Grazie a tutti. Non sei stato invitato alla festa di Kay. Per questo sei morto. Eh, è un altro eroe in fuga. Con un Titan di classe Vanguard della SRS. E vai! Ora si fa sul serio. Ci sono fatti a me. Diamo inizio alla festa, buccia. Lo scaricano. Attento al residuo di termite di Kay. Cauda da niente. 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 Siamo continuati a combattere, ma sappi che Kay non funziona. non può scalare. Ok, niente male. Va bene. Hai sfidato Kay. Kay ti ha risposto al fuoco. Ottimo davvero, davvero avanti. Avanti continua. E sai che stare bene. Eh, eh, eh. Posso andare avanti così tutto il giorno e la notte. Ma visto. Ho, ho, ho. Ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Ho. Leo. Grazie a tutti. 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 Sto arrivando. Passo e chiudo. Defrittare le comunicazioni del nemico è una lunga tradizione in campo bellico. Ciò andrà a nostro vantaggio. Per sopravvivere dobbiamo muoverci. Il maggiore Anderson è andato di qua. Potrebbe essere una scorciatoia per il punto d'incontro. Dovremmo proseguire. Comandi trasferiti a pilota. Stiamo attenti. Cos'è questo posto? Accesso ai file. Sconosciuto. Che ci facciamo qui, BT? Dobbiamo attraversare questa struttura e raggiungere il maggiore Anderson. È la nostra unica speranza di sopravvivenza. Ash, qui è Blisk. Mi ricevi, passo. Qui, Ash. Continua. Kayn non risponde. Il nostro pilota della milizia sta cercando di fare l'eroe. Deve essere diretto verso di te. Uccidilo. Ricevuto. Passo e chiudo. Chi è Blisk? È un criminale di guerra ricercato dalla milizia, frequentemente ingaggiato dall'IMC. Blisk è il responsabile della morte del mio vecchio pilota, il Capitano Lastimosa. 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 Ho sempre voluto uccidere un bar 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 Non male ma morirai comunque Ci vediamo all'inferno Luca, scarica partiti Grazie a tutti Uccidere un bar Uccidere un bar Luca, grazie a tutti Luca, grazie a tutti 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 Il montacarichi di questa piattaforma è una scorciatoia per la struttura Cerca il pannello di controllo sull'AD Buona idea Grazie, pilota Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Montacarichi attivato Montacarichi attivato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti